Il boi di Fiorenza alla Leopolda, il boi di Fiorenza, guardate quanto spazio che si è preso il boi di Fiorenza, adesso è tornata anche sua moglie, vedete, guardate un po', guardate il boi di Fiorenza alla Leopolda, grazie Matteo ci hai liberato e gli onorevoli si mettono in coda, qua sono le protagoniste vedete, il boi di Fiorenza alla Leopolda, ecco qua il boi di Fiorenza, guardate com'è, felice e contento, due pagine, due pagine, guardate, qua c'è anche il sondaggista, per il 63% Italia Viva potrebbe lasciare l'esecutivo e Giuseppe Conte non è contento ovviamente, Giuseppe Conte ha sempre avuto paura di Matteo Renzi Anche prima che Matteo Renzi fondasse Italia Viva aveva paura, è perché Matteo Renzi era ed è un grande antagonista di Giuseppe Conte Giuseppe Conte sta a Palazzo Figi da un anno, un anno e mezzo, ma Matteo Renzi a Palazzo Figi c'è stato per mille giorni, c'è quasi tre anni e poi è un politico di lungo corso Matteo Renzi perché prima di andare a Palazzo Figi è stato presidente della provincia di Fiorenza poi è stato sindaco della provincia di Fiorenza, inoltre in contemporanea al suo stare a Palazzo Figi come premier è stato per due volte, due volte, è segretario del PD e Matteo Renzi è giovane ma è un politico di lungo costo, attualmente è un senatore della Repubblica Giuseppe Conte, che era brava persona, ha sempre avuto paura di Matteo Renzi, ha sempre avuto paura ha detto che Matteo Renzi è quello che ha detto, stai tranquillo, vedete che ha anche una bella moglie di Matteo Renzi vedete che bella che ha la moglie di Matteo Renzi, queste sono le protagoniste della Leopolda Giuseppe Conte non è neanche contento di questa nuova visibilità di Matteo Renzi e vabbè Matteo Renzi si toglie dalle scarpe qualche sassolino perché era Matteo Renzi che voleva tagliare il numero dei parlamentari era lui che lo voleva tagliare, sapete il famoso referendum, sì no, sì no, sì no e poi il popolo italiano, che gli vuole bene i parlamentari, il popolo italiano ha votato no però Matteo Renzi al referendum si è preso il 40% dei voti, eh, il 40% dei voti lo perse il referendum ma lui ha preso il 40% dei voti, poi è diventato senatore e adesso si sta togliendo i sassolini dalle scarpe, per me fa bene toglierci i sassolini dalle scarpe e il buio di Fiorenza, e voi cosa ne pensate, cosa ne pensate voi? voi siete voi, e io sono io, io sono questo qua, vedete? sono stato professore di filosofia e storia nei licei poi sono stato preside di ruolo nei licei classici e scientifici e successivamente, anche contemporanea, ho scritto tutte queste belle opere fatemi sapere cosa pensate per voi di Fiorenza, cari amici a tutti i tanti cari saluti da Serafino Massoni